Un accordo a 5 per il recupero e la valorizzazione della tela di Carlo Bononi, raffigurante l'incoronazione della Vergine, conservata in Santa Maria in Bado, ma seriamente danneggiata da topi piccioni, ma anche dal sisma del 2012. A sottoscriverlo sono il Cias dell'Università di Ferrara, la parrocchia di Santa Maria in Bado, il Consorzio Futuro in Ricerca, il Comune di Ferrara con i suoi musei di arte antica e la Fondazione Ferrara Arte, tutti determinati a riportare all'originale splendore l'opera realizzata attorno al 1617 appartenente a quel ciclo di tele che impreziosisce il soffitto della Chiesa di Santa Maria in Bado. Questa tela che raffigura l'incoronazione della Vergine è in qualche modo lo snodo, la parte centrale di tutto il ciclo che Bononi realizza attorno al 1617. Perché? Perché è la tela che si trovava nell'incrocio tra navate e transetto, quindi la cosiddetta crociera, quindi aveva proprio una funzione assolutamente centrale, nell'area dove in genere nelle chiese tradizionali c'è una cupola. Qui in Santa Maria in Bado la cupola non c'è, qualcuno dice che c'era in origine ed era caduta, ma in realtà non lo sappiamo, e quindi Bononi inventa uno spazio sfondato praticamente, annulla la barriera architettonica del soffitto, creando uno spazio celeste e altro, dove appunto la Trinità sta incoronando la Vergine. Il dipinto è centrale anche all'interno della carriera di Bononi, perché Santa Maria in Bado è il capolavoro per il quale Bononi verrà ricordato per sempre. Al recupero dell'opera seguirà la valorizzazione, qui che nasce il secondo accordo richiamato in apertura e che mira a collegare il restauro alla mostra dedicata a Carlo Bononi. La prima monografica mai realizzata sull'artista è che sarà allestita a Palazzo dei Diamanti dal 14 ottobre 2017 al 7 gennaio 2018, a cura di Giovanni Sasso e Francesca Capelletti. L'intento è quello di creare attività di informazione e divulgazione dei lavori in corso, coinvolgendo anche le scuole, testate giornalistiche, social media e web. A conclusione dell'intervento, infine, è prevista la presentazione al pubblico dell'attività svolta attraverso una piccola mostra ospitata all'interno della chiesa da settembre 2017, collegata in contemporanea alla monografica su Bononi. È stata una presentazione emozionante perché ha dimostrato l'importanza di Bononi, la scelta giusta che abbiamo fatto nel decidere di presentare al Palazzo dei Diamanti una grande mostra su questo autore importante ma non ancora conosciuto come merita e anche la nostra idea di partire dal Palazzo dei Diamanti ma lavorare su tutta la città. Quindi sarà una grande occasione, io sono sicuro che al di là della presenza di pubblico faremo fare un passo avanti alla ricerca, alla storia dell'arte del nostro paese e anche alla città perché finita la mostra la città sarà più ricca di luoghi da visitare e di cultura da conoscere.